Tutti abbiamo un compito speciale, ricordare al mondo che è Natale. Se mettiamo ale al nostro cuore, saremo angeli che portano amore. E sarà, 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 sarà Natale se... Sarà Natale se ami, sarà Natale se doni, sarà Natale se chiami qualcuno solo a stare con te. E sarà, 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 sarà Natale se... Sarà Natale vero, non solo per un'ora Natale, ma per un anno intero. Sarà Natale se vivi, sarà Natale se ridi, sarà Natale se stringi le mani a chi soffre di più. E sarà, 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 sarà Natale se... Sarà Natale vero, non solo per un'ora Natale, ma per un anno intero. Sarà Natale vero, non solo per un anno, ma per un anno intero. Sarà Natale vero, non solo per un anno intero. Siamo scarati e sono uno di quelli che hanno iniziato nel 1988. questo presempio, l'input è stato dato da Don Daniele Faica, il nostro viceparroco che c'era allora, che ha avuto questa bellissima idea. Negli anni abbiamo sviluppato oltremente questo, per esempio facendo delle casette che prima erano di legno e tutti gli anni cambiavamo, adesso sono tutte fisse in muratura. Abbiamo avuto tantissime cose, la ruota che bacina le olive. Il maglio e tutte le altre cose. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.